Voi lo sapete che Rita ha disegnato questi angeli, vero? E insieme a questi angeli ha ricevuto anche dei messaggi che sono segnati con l'angelo. In tutti i tempi gli uomini hanno pregato Dio alzando le mani, alzando le chiese, facendo i templi, facendo tante cose per cercare di alzarsi verso il cielo perché spera sempre di entrare in contatto con lui. Ecco, è il momento, sogni angeli! Rita, proprio in questi giorni mi ha colpito tanto, ho avuto occasione di stare qui, presso questo centro, per diverse ore consecutivamente, in più serate. Mi dava proprio una sensazione come quella di una persona che si ponesse in quel momento come obiettivo, come tramite, come strumento, per fare in maniera che potessimo vivere una giornata di contentezza per gustare la gioia di essere di Dio. Cioè che questo Dio è per noi, non ci vuole musoni, sa che siamo afflitti, sa che abbiamo problemi, però ci vuole nella pace, ci vuole nella gioia. Nella chiesa esiste il termine anche della providenza, per esempio. Ecco, ma una providenza che provvede ai tuoi bisogni, che ti vuole nella dignità. Ecco, ma una providenza che provvede ai tuoi,